Ma non ho un break, se la capi papi è un'ora di un po' seggia di ammulans, però c'è una lotta back, a chi ora tu? Non ho un break, non ho un po' di più che non ho fatto i bambini. Non ho fatto i bambini, ma non ho fatto i bambini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.